Si è svolta all'interno della Camera di Commercio nella sede di Chieti in via Pomiglio la seconda edizione del Festival Birre d'Abruzzo. L'iniziativa promossa dalla Regione Abruzzo ha continuato l'iter della prima edizione con l'intento di valorizzare i birrifici indipendenti regionali, facendoli conoscere al pubblico. Ce ne parla Vincenzo Dincecco, presidente della prima commissione di bilancio. Sì, la seconda edizione è sempre quella più complicata di tutte in ogni evento che si organizza perché ovviamente nella prima c'è curiosità, nella seconda bisogna mettere qualcosa in più per creare o comunque bissare la curiosità e poi ovviamente c'è sempre un punto di riferimento col quale fare il paragone. La seconda edizione però per noi è stata anche un'organizzazione più facile dal momento che gli eventi della prima hanno anche reso il tutto più lineare. Ovviamente abbiamo cambiato posto perché nella norma c'è questo concetto della territorialità e del posto appunto da cambiare ogni anno, quindi siamo venuti qui a Chieti, la Camera di Commercio di Chieti Scalo. Naturalmente c'è un birrificio in più rispetto allo scorso anno, ci sono molti più eventi rispetto allo scorso anno, quindi abbiamo avuto anche una dotazione finanziaria un po' più rotonda per poter lavorare meglio. Dobbiamo continuare su questa strada. A coordinare il tutto Romeo c'ha Maichella facendo un crossover tra le due edizioni guardando già la terza. Sicuramente nella tradizione quella abruzzese abbiamo gli stessi birrifici dell'anno scorso, anzi ce ne sono due in più rispetto all'anno scorso, birre che raccontano la tradizione del nostro territorio, però birre e birrifici soprattutto che si stanno evolvendo per rendersi competitivi su mercati extra regionali. Noi cerchiamo tramite i diversi canali che abbiamo a disposizione di far percepire qualità ovviamente e cercheremo specialmente con l'incontro di domani con buyer nazionali e internazionali di proiettare queste aziende verso mercati più dinamici e frizzanti. Tocco internazionale con la presenza al festival dell'importatore di vino italiano con la Finlandia Petri Viglione, desideroso di aprire un nuovo canale concernente proprio i birrifici artigianali. E ci siamo detti un giorno perché non provare a portare anche la cultura della birra artigianale italiana in Finlandia. Chiaramente è molto più difficile perché la Finlandia non è un produttore di vino. Ovviamente è molto più facile vendere vino italiano in Finlandia che birra italiana in Finlandia perché la Finlandia è un grosso produttore di birra, quindi ha una concorrenza molto più sfegatata rispetto a un prodotto come il vino che non viene prodotto. Ma il prodotto di birra che viene venduto in Finlandia per lo più è la birra lager. Invece qui io trovo senz'altro che ci sia un'offerta oltre alla lager che ha tutto il nostro rispetto, però tutte le altre tipologie di birra artigianale che possono incontrare il favore del consumatore finlandese.